buongiorno ti presento il timbra cartellino max 1500 voglio farti notare che max 1500 ha due caratteristiche che lo rendono unico primo è auto installante per l'installazione è sufficiente fissare a parete la staffa con le sue viti in dotazione ed inserire la spina si accende con date ora già aggiornata pronta per l'uso cambio di loro solare legale e automatico vediamo le cartoline hanno dei fori nella parte inferiore sono un codice con cui max 1500 identifichi i dipendenti in questo modo effettua lo spostamento automatico ed il calcolo delle ore lavorate giornaliere vediamo prima timbratura seconda timbratura terza vedete che la quarta timbratura ha effettuato il calcolo delle ore lavorate nel giorno anche se nel nostro esempio è zero perché fate nello stesso minuto unica eccezione se il dipendente fa solo due timbrature nel giorno prima di effettuare la seconda occorre premere il tasto auto 2 per avere il calcolo delle ore lavorate vediamo premo il tasto auto 2 inserisco la cartolina vedete che nel giorno 8 cioè oggi la seconda timbratura è stata fatta nella quarta colonna 1733 con un calcolo delle ore delle ore di presenza di 5 minuti il secondo vantaggio di max 1500 che voglio farti sapere è che ti dura dieci anni senza costi di assistenza l'unica operazione da fare periodicamente il cambio del nastro host i sistemi ha venduto su tutto il territorio nazionale circa 5 mila marca tempo della linea max su un arco temporale di 15 anni max 1500 la sua forza e la semplicità